Il premio Castellana è la quinta corsa in programma al Cirigliano di Aversa, vede al via i soggetti di quattro anni. Su Adunetalvio c'è Raffa Palomba. Otto i concorrenti. Prima fila per Olchak SM, Akirba e Bred, Air Force One Fast, Aspemela, Iachevip ed Aurea GM. In seconda Anthony Taup e Adunetalvio. Un po' arretrato Iachevip, subito a rete, Aurea GM. Alla chiusura delle ali, Olchak SM, anche lui, anche lui, riesce ad andare davanti nei confronti di Aspemela e più a largo Aurea GM. Si delinano le posizioni con Aspemela che riesce a sistemarsi in seconda, mentre Aurea GM punta su Olchak SM. Lancia in quattordice e mezzo, anche veloce. Adesso Olchak cerca di rallentare per lasciare sfilare Aurea GM. Quella sembra l'impressione, vediamo che accade. Aurea che insiste, ma il sorpasso non si concretizza. 29 e mezzo il quarto iniziale. Aurea prova a scendere davanti ad Aspemela e ci riesce. I 600 notevoli in 44 secchi ne approfittano adesso sul primo rallentamento per avanzare a Kirba e Bred e Air Force One Fast. Poi a Iachevip chiude il gruppo Adone d'Alvio. Un minuto e sei decimi, a media di 1.15.8. Olchak Aurea richiesta a Aspemela. Allargo a Kirba e Bred, allarga e folate, raggiunge il leader e sembra già dominarlo all'altezza del chilometro. Passati in 1.17. A Kirba e Bred prova la fuga e inseguito da Air Force One Fast, un'incertezza per Iachevip, prova di inserirsi ad un'ed'Alvio. Tre quarti di miglia in 1.31.9. A Kir, Air Force, Adone, questi rimasti a lottare con Air Force One Fast che raggiunge a Kirba e Bred e lo appariglia completamente. Poi ad un'ed'Alvio. Ingresso in retta d'arrivo, Air Force sta passando su A Kirba e Bred. Air Force One Fast sollecitato sulla voce dal suo interprete, Air Force One Fast, quest'oggi la fa per intero e va a concludere nei confronti di Adone d'Alvio e a Kirba e Bred. La media dovrebbe aggirarsi intorno all'1.15.2. Nel frattempo la giuria, prima di convalidare l'ordine d'arrivo, si riserva di visionare i filmati, il filmato della corsa. Questo è il tratto conclusivo dove Air Force One Fast chiude nettamente. Adone d'Alvio al secondo a precedere a Kirba e Bred, quindi non sappiamo e non abbiamo idea di cosa possa essere successo. Rimandiamo tutto alla giuria. A tra poco il vincitore corre a media di 1.15.2. chiaro. Grazie a tutti.